La compagnia di Pesaro ha scoperto una donna che perciviva indebitamente il reddito di cittadinanza, avendo omesso di dichiarare redditi derivanti da vincita al gioco online e del marito e la sore totale. Tanto fortunata quanto smemorata. Una donna di 48 anni di Vallefoglia, nel 2019, aveva percepito 11.825 euro di reddito di cittadinanza, ma si era dimenticata di dichiarare 300.000 euro di vincita al gioco online, oltre al reddito del marito, risultato evasore fiscale totale per 123.000 euro. Guardie di finanza di Pesaro e IMSS hanno però scoperto tutto attraverso le ripetute incongruenze fra dichiarazioni ISEE e dichiarazioni omesse o non rispondenti alla realtà patrimoniale. Scoperte le vincite online, scoperti i 123.000 euro di reddito evasi dal marito nel gestire una rivendita al dettaglio di frutta e verdura, scoperta pure la mancata comunicazione all'IMS dell'acquisto di un'automobile, scoperto pure il fatto che i due figli fossero stati assunti come lavoratori dipendenti. Insomma, i soldi non mancavano, ma evidentemente non bastavano, visto che le ripetute falsità hanno consentito alla donna di percepire nel 2019 e mantenere nel 2020 anche il reddito di cittadinanza. Un sostegno di 11.825 euro che ora è stato revocato, così come partita l'operazione di recupero delle somme vase.